La reciprocità, l'esempio stupido che faccio ai miei studenti, che faccio anche qui, è chiaro che è ben diverso il caffè che mi ha offerto stamattina mio marito rispetto al caffè che ho comprato stamattina al bar. Il servizio è esattamente lo stesso, ho ricevuto un caffè, il bene è esattamente lo stesso, ho bevuto un caffè. La modalità di scambio tra me, il barista, tra me e mio marito è ovviamente molto diversa. Il caffè che mi ha offerto stamattina mio marito rientra in una dimensione di reciprocità che nasce da un legame di tipo affettivo, dopo che mio marito mi ha offerto il caffè io non gli ho dato un euro, sarebbe risultato strano se io a mio marito stamattina avessi dato un euro, così come sarebbe stato ugualmente strano se entrata al bar, avessi chiesto un caffè e non avessi pagato l'euro. È chiaro che il caffè è sempre lo stesso, i meccanismi di regolazione di quello scambio sono molto diversi. La sharing economy che cosa sta facendo? Sta introducendo una dimensione intermedia, sta introducendo in alcune piattaforme, sono quelle più interessanti, sono quelle più stimolanti, sono quelle su cui c'è da lavorarli più, una formula intermedia per cui la relazione c'è, ma non è necessariamente forte come il legame forte tra me e mio marito e non esclude lo scambio economico. Siamo in una situazione che è a cavallo, che tocca per alcuni aspetti le dimensioni di reciprocità perché il legame è necessario allo scambio del bene e del servizio, ma toccante le dimensioni di mercato perché il legame è un legame leggero, pensate, non so, bla bla car. È chiaro che un legame c'è perché io vado in macchina per alcune ore con una persona e non posso ignorare completamente la persona con cui condivido un viaggio per alcune ore. D'altro canto però c'è anche la dimensione di rimborso delle spese. Se il mio parente mi dà un passaggio in auto in linea di massimo, dipende dai rapporti che ci sono tra parenti, ma se i rapporti sono buoni, alla fine io non pago la metà del viaggio. Se lo faccio con bla bla car, pago ma non pago. Non è l'equivalente di un taxi, non c'è l'animato che c'è in un taxi. Banalmente nel taxi vi siedo dietro e con bla bla car vi siedo davanti, anche simbolicamente la differenza è evidente. E c'è una relazione, si instaura a una relazione. Mentre col taxista uno può salire in taxi e non rivolgere la parola da 15, uno può anche fare, però non è implicito nel meccanismo di stand. È chiaro che questa formula intermedia crea alcune criticità. Perché? Perché, per esempio, l'idea di entrare in relazione con sconosciuti è veicolata, non è il vecchio autostop, per restare all'idea della mobilità, ma è veicolata dai meccanismi reputazionali. Per cui se io, se stiamo su bla bla car, decido di utilizzare bla bla car o di andare a cena a casa di uno sconosciuto cogniamo, non è un perfetto sconosciuto la persona con cui condivido il viaggio o condivido la cena. Perché ho potuto ottenere delle informazioni prima di incontrarlo. Ho potuto vedere le valutazioni che altre persone hanno dato di questo sconosciuto. Ho potuto raccogliere delle informazioni sulle caratteristiche di questa persona. In linea massima, questo aspetto relazionale piace tanto, poi a noi sociologi piace tantissimo. Ci vediamo un ritorno di una dimensione relazionale in una società individualizzata, anonimizzata. Quindi ci piace tantissimo. Se c'è la dimensione relazionale e noi siamo felici e contenti, non dobbiamo sottolineare l'aspetto invece critico. Per esempio, quello che sta emergendo in tantissime piattaforme sono nuove forme di discriminazione. Le prime ricerche sulle piattaforme di condivisione mostrano, per esempio, una cosa che a me è sorpreso. Perché io mi aspettavo, per esempio, quello che noi come sociologi chiamiamo omofilia. Cioè il fatto che ognuno sceglie persone che gli somigliano. Allora mi aspettavo che le donne preferissero viaggiare con altre donne o andare ospiti a casa di altre donne. che i bianchi preferissero stare con bianchi, che gli afroamericani preferissero stare con afroamericani. Quello che sta emergendo invece è un dato un po' più implicante e difficilissimo da governare e regolare, che le scelte seguono gli stereotipi. Per cui le prime ricerche stanno dimostrando, per esempio, che gli afroamericani preferiscono alloggiare a casa di bianchi.